E ora procediamo alla presentazione della finale della Sala Ampercia Femani. La signo è un, l'objecte è una canale avanzata nella nostra al冷卵 finale di Noriega Katrin Lasodtrzy. Representa la Russia, la Liga Campiona Mundial, Europea e Maraglia della General Jocs Olimpics. Representa la Russia, il former European World Champion e former Olympic Silver Medalist, Zetlana Fiofanova. Representa la Suiza, rappresenting Switzerland, Anna Catharina Schmitt. Representa la linea a fuori del Mundial de la Rhin, rappresenting New Germany, 4th in the World Championship last year, Silke Spiegelburg. Representa la Liga Campiona, rappresenting New England, Mia Mikannin. Representa la Liga Campiona d'Europa Sub-23, rappresenting New Germany, under 23 European champion, Lisa Rossi. Representa la Liga Campiona d'Europa Sub-23, rappresentant Gran Bretagna, rappresenting Red Britain, Kate Denison. Representa la Liga Campiona d'Europa Sub-23, rappresenting New England champion, Yulia Gozikova. Representa la Liga Campiona d'Europa Sub-23, rappresenting New Germany, Yop. Representa la Liga Campiona d'Europa Sub-23, rappresenting New England, Camerina Pachecova. Representa la Liga Campiona d'Europa Sub-24, rappresenting New England... Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. Grazie. a tutti. 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 . a tutti. 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 a tutti.